Sono 23, di età compresa tra 3 e 53 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74.897. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo così a 2.512 vittime. I guariti sono 34 in più rispetto a ieri, 21 pazienti, 3 in meno di ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, uno in terapia intensiva, mentre gli altri 851 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo sono stati eseguiti 2.498 tamponi molecolari e 2.352 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0,47%. Del totale dei casi positivi, 19.052 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 11 in più rispetto a ieri, 19.479 in provincia di Chieti, anche qui 11 in più rispetto a ieri, 18.184 in provincia di Pescara, 17.479 in provincia di Teramo, 3 in più di ieri, 586 fuori regione e 117 per i quali sono in corso le verifiche sulla provenienza. Intanto ha preso il via oggi la campagna Beach Covid Free dell'ASL di Teramo, che prima in Italia darà la possibilità, grazie a un camper che si sposterà lungo la costa della provincia, di effettuare sia il tampone che il vaccino. La prima tappa oggi a Silvi, seguita domani da Martinsicuro, il 4 luglio a Roseto degli Abruzzi, il 9 ad Albadriattica, il 10 a Pineto, l'11 a Tortoreto, il 16 e il 17 luglio a Giulianova. Il personale ASL in queste date sarà operativo dalle 17.30 alle 22.30.